la gente dice le cosiddette vasche però erano tutti ordinati dietro gruppi e facevano sempre tutti lo stesso percorso quasi come una sorta di girotondo ecco e ho fatto e ho fatto un paro per forza e ho fatto un tabacchi perché è la prima volta che mi dicevano tutti come te ci ami e mi è sordo che dicevano non so, non posso dire non so in grado di capire non so niente Dio marmello Dio d'anello lungo despò sciacca pigocchi e caccia imò ecco, questo qui è un simpaticismo se passa una persona che è grossa che è pesante e si dice vuole proprio un tonno se invece passa una bella sua nota e non ci stessi non so perché non so un paese due ben godi pizza, pesce due, tre, zin fu ne assai i gibarrake che fume e che torre delle lunghe kurde se comence quei 17 se finisce con i bambini e se sciopere i traghetti e ne lasciano i zulè se fa gente a destra e a manca e tutti quanti a foca a chandra finale fa così se molti gente fette e cussi godati che godi mi vula o paese dubbi godi se ti che nasci nutella scordi buona partita e ce è la capita e per centri mi